ciao ciao mamast benvenuti o bentornati su questo canale ASMR io sono shot, shot, shot o più semplicemente chiaro oggi ho deciso di riproporvi un tipo di video abbastanza presente sul mio canale ovvero questo delegato Mike Prashnik accompagnato da l'AMIC ovvero canzoni, canticchiate, melodie appena accennate che possibilmente vi faranno addormentare e accompagneranno il lungo, lento e tosto cammina verso il sonno profondo a a a a a a Mmmmm 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Mh... Quanto sono pesante le due palpebre in questo momento. e compenso che anche le mie sono molto, molto, molto molto, 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 molto bene, molto, molto bene tra l'altro l'haming è una tecnica di auto rilassamento soprattutto quando si riesce ad incanalare il suono nella parte alta del naso oppure nella gola quando vibra tutto il suono è un auto rilassamento, un auto massaggio e infatti a me aiuta sempre molto a calmarmi, a rilassarmi e ora andrei quasi a dormire e ora andrei Grazie. 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 I am sad again, don't tell my boyfriend, it's not what he's made for. What was I made for? So why, oh why, I don't know how to feel. But I wanna try. I don't know how to feel. But someday I might. I don't know. I don't know how to feel. 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 Grazie a tutti. 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 Io vi saluto e do una buona 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 notte e auguro di fare dei bellissimi sogni e noi ci vediamo molto, molto, molto presto. Ciao. Grazie. Grazie a tutti. Ciao.